Sesta e lo Bianco, che partita è stata con la Casellese? Abbiamo fatto una grande partita. Siamo partiti un po' a rilento, ma fortunatamente siamo riusciti a toccarla con mezza destra sul finale progetto. Il finale è brutto. Sta' piovello! Mezza Sesta! Abbiamo fatto una grande partita, con parti, grintosi, come vuole il mister. Gli amici hanno arrivato il gol, quindi direi che possiamo proseguire così e torci delle belle soddisfazioni quest'anno. L'ultima domanda, chi dedica il gol? Il gol ha l'indica Lillo, perché sennò mi rubo sempre i coglioni.